Non è stata un'autocandidatura ma una proposta di candidatura. Scontri in casa PD a Bari in vista del nome del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni primaverili. La malagestione viene sollevata dal presidente del PD Bari, Titti De Simone, che ha inviato una lunga lettera al segretario regionale a quello cittadino d'Edem. Secondo la De Simone è necessaria un'assemblea cittadina per confrontarsi sul futuro anche del partito e garantire così ai sostenitori una scelta giusta. Per il ruolo di garanzia che rappresento, si legge nella lettera, non intendo aderire a queste modalità caotiche per il partito e per la sua democratica gestione che mortifica gli organismi dirigenti. De Simone in particolare contesta il non aver convocato rapidamente un'assemblea dopo la proposta dell'assessore Pietro Petruzzelli a candidarsi. Proposta che era stata congelata dal PD stesso, mentre andavano avanti le trattative parallele con il Movimento 5 Stelle. Nel centro-sinistra pugliese quindi non si riesce a trovare la quadra sul candidato sindaco a Bari. Da una parte c'è la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia, sostenuta da partiti e movimenti di sinistra. Dall'altra c'è il PD che non la condivide e cerca un'alternativa. Nel frattempo la settimana scorsa Pietro Petruzzelli ha rotto l'indugi e andando contro il suo partito ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi.